Proprio su questo cartello, perché vede io ho attraversato la città e ne vedo tanti, allora io dico ma con che faccia si presenta uno che fino a ieri diceva che Roma era ladrona. Oh ma ci stiamo scherzando? Ma negli altri anni che cosa faceva? Faceva debito, io sono arrivata oltre ai 13 miliardi storici di debito, perché l'abbiamo sempre sentito, Roma ha 13 miliardi di debito, quello è il debito storico, quando io sono arrivata io mi sono trovata sulle spalle un altro miliardo e due, quindi è ovvio che la chiamavano Roma ladrona. Io sono arrivata e ho iniziato a pagare i conti di quelli che c'erano qui.